Siamo qui con Natoli, la gara Lecce-Foggia, prima sconfitta, quindi prima battuta d'arresto dopo tre vittorie consecutive, come giudici la prestazione? Abbiamo trovato degli avversari fortissimi, poi noi siamo tutti over 40, over 50, combattere contro i giovani è un po' dura, però bravi gli avversari perché non si sono mai fermati, complimenti a loro. Hai qualcosa da rimproverare ai tuoi compagni di squadra? Sì, no vabbè noi, agli avversari che hanno fatto mezz'ora di ritardo e ci siamo stancati, abbiamo girato, fra di noi abbiamo speso l'energia. Perfetto, complimenti a loro. Mentre qui passiamo con Olimpio del Foggia, esordio, con gol anche, hai sigillato tu la partita con il gol che ha chiuso poi le marcature con il 5-2, come giudichi la prestazione? La prestazione è buona, noi siamo 5-6 persone, adesso giochiamo assieme, siamo riuniti per diventare 5-0. Alla fine, obiettivi del torneo? Diventici prima cosa e poi vincere. Perfetto, in bocca al lupo alla prossima.